Musica Neeeeee Bella raga qui AlphiGame Da quanto tempo che non faccio un video Una settimana, poco più Lo so però sto preparando Il gameplay Di Crash Bandicoot The World of Cortex Quindi scusate se è passato troppo tempo Che non carico un video Un gameplay che farà uscire Ogni parte, una parte al giorno Per non farvi aspettare E' un gameplay che chi ha seguito Il gameplay di Crash Bandicoot Sa che è da un prossimamente Dovevo farlo quindi Questo gameplay di sicuro lo farò Molto probabilmente dopo questo Questo video Allora torniamo a noi In questo video siamo su GTA 5 E quello che voglio fare in questo video E' spiegare come scaricare Come usare L'Atomic Blimp Perché voglio fare un tutorial Su questo Cosa che è estremamente facile Beh perché Molte persone Non riescono Ad avere A pilotare L'Atomic Blimp L'Atomic Blimp Che ovviamente E' un mega Dirigibile Fantastico Per le Per le sue dimensioni Enormi Non pensate a male E dato che Molte persone Non riescono Ad averlo Ma molte altre si Vediamo come si fa Anzitutto Dovete riscattare Il codice Dell'Atomic Blimp Codice che trovate Dentro Alla scatola Del gioco C'è proprio scritto Atomic Blimp E lì c'è il codice Il codice Potete scaricarlo Seguendo le istruzioni Presente sempre In quella In quella cartolina E' facilmente Scaricabile Quello che andate a scaricare Diciamo che non è Che scaricate L'oggetto L'Atomic Blimp Dato che potete Vederlo Nei cieli Di San Andreas Tranquillamente Quello che andate a scaricare E' diciamo Una sottospecie Di autorizzazione Per usarlo Infatti Il peso Di questo DLC E' di soli 100 KB Tra virgolette DLC Perché In realtà Era una cosa Esclusiva Solo per chi Aveva Prenotato il gioco Ma in realtà E' una cosa Che c'è Sempre presente In ogni gioco Anche se voi lo andate ad acquistare adesso Troverete la cartolina Con il codice Però E' un codice Che vale solo Per un account Quindi Attenzione Se prestati il gioco A non dagli anche il codice A meno che Non l'avete già utilizzato Una volta Riscattato il codice Dovete avviare il gioco O se avete Riscattato il codice Dentro al gioco Che si riscatta Andando su Mettendo pausa Pressing to store E Come vedete Anche il gioco Vi dice come dovete fare Per scaricare L'atomic blimp Una volta fatto questo Dovete Aprire il cellulare E andare su Contatti E Tra i contatti Tantaradan Guardate un po' cosa c'è C'è scritto Blimp Se non trovate La scritta Blimp Molto strano Ma se non lo trovate Basta semplicemente Che salvate Salvate la partita La ricaricate Quindi Doveste trovare la scritta Blimp Se Non la riuscite ancora a trovare Salvate la partita Uscite dal gioco E rientrate nel gioco Salvando quella partita Caricando quella partita E doveste trovare L'atomic E doveste trovare Blimp Se non lo trovate ancora Impossibile Perché Lo doveste trovare Ad ogni modo Facciamo la chiamata Indipendentemente dal personaggio Che usate Che sia Michael Trevor Oppure Franklin Chiamiamo Semplicemente Visto Semplice E come avete potuto notare Nella minimappa È spuntato L'icona Di un dirigibile Per eventuali dubbi Basta Basta premere Il tasto Basta mettere in pausa Andare a vedere La minimappa E dov'è che me l'ha messo Il dirigibile Sta qua il dirigibile Vicino All'ippodromo Approfitto Che ho già la schermata Della mappa Per dirvi Quali sono le due I due posti Dove potete Dove si diciamo Spawnano Gli atomic blimp Spawnano gli atomic blimp Ovviamente Dopo aver fatto Dopo aver Chiamato Il contratto blimp Allora si trova Uno all' Sottospecie di Ippodromo Non l'ho mai visto in azione Ma comunque è un ipodromo Che Si respawnerà qua Quando siete In Diciamo Nella parte alta Di San Andreas Ovvero Blank country Tutta questa parte alta Fino a Dove sono io Che sto Sono Ecco qua E come potete vedere Sono vicino All'ippodromo Se Se invece vi trovate Un po' più giù Giù a Los Santos Il posto dove si spawna L'atomic blimp È questo qua Vicino All'aeroporto Tranquilli Non dovete entrare Nell'aeroporto Quindi non rischiate Tre Tre Stelle Di sospettato Perché sta Qua Qua fuori Diciamo sta Appena fuori L'ingresso Della I cancelli Dell'aeroporto E questi sono Sono solo questi due Ho fatto altri esperimenti E solo questi due Escono Quindi sono questi due Quindi dobbiamo raggiungere Il simbolo Della Mongolfiera In questo caso Blimp E in questo caso Vi spiego anche Come entrare Nell'ippodromo Che però Se non sbaglio È questo Alternativamente Imposto un'altra entrata Perché Non so se Funziona davvero così E quindi Dobbiamo Dobbiamo Semplicemente andare Nel posto Allora Eccoci qua Fuori All' All'ippodromo Quindi Vediamo Seguiamo L'indicazione Che mi dà il gps Per vedere Se è questo L'ingresso Perché io avevo Un altro ingresso Che andavo un po' più avanti Però vediamo Se qua Funziona Allora Mi dice Di andare Di qua Potevo girare Ah E qua sotto C'è un tunnel Che mi porta Dentro Al Qua dentro Io non lo sapevo Io facevo un'altra strada Ad ogni modo L'avete già visto Che è impossibile Non vederlo Eccolo qua L'atomic blimp Ok Ah Qua c'è proprio Un parcheggio apposito No Quello che io facevo Era Era Un'altra strada Ovvero Ovvero Entrando per di qua C'era un altro percorso Dove Arrivato qua C'era una Una Diciamo Una parte qua Che era rotta In cui era possibile Entrare Nel campo Nell'ippodromo E infatti Noi siamo entrati Dentro all'ippodromo Non nel circuito Dell'ippodromo Ad ogni modo Scendiamo Ecco qua Il mega Suppostone Ovviamente Farci una foto E diciamo Quasi d'obbligo Perché è una cosa davvero Enorme Fantastica Allora Come ci si entra Ci avviciniamo Qua sotto Basta premere Triangolo Ed eccoci qua Come si pilota L'atomic blimp Allora Come un aereo Normale Diciamo Prende i controlli Di un normale Elicottero Quindi Noi con R2 Ci alziamo Come potete vedere Alziamo E aumentiamo la velocità Con L2 Invece Scendiamo Ed ecco qua Per muoversi Usiamo L1 Che vira a sinistra Ed R2 Che vira a destra Se vogliamo invece Andare in avanti Andiamo giù Per andare indietro Impenneremo un poco Andiamo giù Ci muoviamo Diciamo In un modo Non particolarmente Veloce Però E' fantastico Vedere Diciamo Lo stato Ora siamo a Los Santos E' fantastico Vedere Tutto ciò Beh si Possiamo anche vedere Che sotto E' meno dettagliato Ovviamente Però Guardare i panorami In generale E' assolutamente Fantastico Mettiamo anche Ecco qua La visuale Quella Che basta Prendere cerchio Per avere una Fantastica visuale Queste sono le varie visuali Da Questa è la visuale Di dove Vediamo noi Un po' scomoda Secondo me Io preferisco avere Questa Ecco che è la migliore Fantastica Io ne approfitterei Anche ecco Per fare una foto E diciamo Anche questo Un modo migliore Per fare Le foto Foto Che saranno Sicuramente Uno spettacolo E questo E' la Atomic Blimp Consigliato Anche per Visitare Tutto lo stato Di San Andreas Se visitate Tutto lo stato Di San Andreas Ricevete un trofeo O su Xbox 360 Un obiettivo Per farvi capire Perché farlo in volo E non a piedi Perché uno E' più veloce Pure con l'atomic blimp E' veloce Due perché vedete Queste chiazze Trasparenti No? Io sono stato Qua intorno Non sono stato Qua di preciso E siccome non sono stato Là di preciso Non ho questo trofeo E adesso io ci posso andare Le zone che dovete evitare Di visitare Per non ricevere Livelli di sospetto E' Nell'aeroporto A meno che voi Non abbiate Acquistato Un hangar Se non l'avete acquistato Non andateci Un altro posto E' il E' un posto Che non mi ricordo Dove è Comunque E' la base militare Non No Non mi ricordo Dove si Si trova Non mi ricordo Se è qui Non Penso Oppure Qui Perché mi ricordo Che era vicino Al mare E mi ricordo Anche che Vicino Di fianco C'era una Specie di palute Quindi non mi ricordo Bene E poi c'è un altro Posto Dove non volare Che però è più piccolo E Non penso che Si Si riesca a vedere Forse E' qua O Forse No Mi sa che Non me lo ricordo Comunque E' un E' un carcere Che potete Riconoscerlo Quando siete Siete vicini Perché ha una Ha una forma Esagonale Come la forma Di una ragnatela Vedete che a me Mi fanno di sghiva Le ragnatele E quindi questo E' il modo Diciamo Pulito Perché non dovete Rubare aerei Quindi non Non riceverete Stelle di sospetto Più Tranquillo E' fantastico Di volare Nello stato Di stand Andreas Beh certo Se volete Tipo avere Il trofeo Di che avete Visitato Tutto lo stato O comunque Vi volete divertirvi Sul serio Allora vi consiglio Di andare Nella base militare E prendere Il Il oggetto Guardate qua Sto sopra le nuvole Fantastico Vorrei anche scendere Perché vorrei anche Visitare un po' Il Il Aspettate che forse Se quello che Dico io Là E' il carcere Perché vedo Tutto intorno Comunque vi consiglio Di prendere Il jet Per Avere Per Visitare Più velocemente Tutto lo stato Anche se comunque Se state In alto Con la Topic blimp E vi muovete Potete vedere che Vi muovete Anche veloce Insomma Avete Andate più facilmente Si comunque Penso che quello sia Il carcere E stateci Lontano Escate di Non volare Sopra La base militare Si si E' proprio E' proprio Il carcere Beh ragazzi Che Che dirvi Ultima cosa Potreste anche Trovare Delle figure Un po' Strane Sul Terreno O che Diano il sospetto Di una figura Strana Quindi divertitevi A volare Nell'alto Dei cieli Quindi Ci vediamo Nel gameplay Di Crash Bandicoot The World of Cortex Lila di Cortex E Da Alfigame E tutto Io vi saluto E ciao A tutti Piccolo extra Cosa succede Se mentre sto In volo Io premo Triangolo Beh E' semplice Via E' fantastico Ah L'Atomic Blimp Cadrà giù Stile 007 O altri film Di spionaggio Tutu Cosa? Non è esploso Come che non è esploso? Aspettate Non capisco Perché non è Bug Bug Ah 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 Buggissimo Praticamente Si era fermato A mezz'aria Poi mi sono avvicinato Di più Ed è sceso Ad ogni modo Non Cerchiamo di atterrare Bene Sì Ad ogni modo Non Non si è fatto nulla Anche se qua Fuma un po' Ora proviamo A salirci Non possiamo Salirci Quindi diciamo Era Era proprio Era proprio Destino La prima volta Che vedo un personaggio GTA Strisciare Niente Non riusciamo a salire Forse se facciamo Un atterraggio Migliore Beh di sicuro Potevo salire E niente Ciao a tutti Ciao a tutti